Laudentur, Iesus et Maria e benvenuti a tutti a una nuova puntata del lungo e articolato ciclo di Catechesi del Catechismo Romano. Stiamo affrontando la prima parte, il credo, e siamo giunti all'articolo quinto, discese all'inferno, dice il testo originario dell'articolo, vedremo che non si tratta dell'inferno dei dannati perché Gesù non va all'inferno dei dannati, e il terzo giorno è riuscito da morte. Questo è l'articolo che ci accengiamo a leggere e a commentare per la nostra formazione cristiana. Formazione, se mi posso permettere, da un punto di vista introduttivo, che è quanto mai importante. Questo ciclo di Catechesi è un ciclo di Catechesi formativo, un ciclo di Catechesi che serve semplicemente a farci conoscere, per farci rassimilare profondamente la sana dottrina cattolica, che deve essere chiaramente l'anima e il criterio di scelta di tutto ciò che viene nella nostra esistenza. Tante sciocchezze si fanno per mancanza di formazione, formazione cristiana e a volte anche un po' di formazione neanche umana, non c'è proprio umanologica a volte, quindi imparare ad utilizzare bene i criteri della logica e del ragionamento che si applicano evidentemente anche alla realtà di Fede e attraverso i quali, anzi, Dio guida e conduce in maniera ordinaria i suoi figli. Ora, bene, non voglio prolungare troppo questo, diciamo così, overture introduttorio, passiamo direttamente alla lettura del significato dell'articolo, anzitutto. Interessa senza dubbio moltissimo conoscere la gloria della sepoltura di Gesù Cristo, nostro Signore, di cui abbiamo poco fa parlato, ma deve interessare anche di più i fedeli, il conoscere i trionfi strepitosi che egli riportò sul demonio debellato e l'inferno spogliato. Di ciò, appunto, e insieme della risurrezione dobbiamo ora parlare. Avremmo potuto benissimo trattare separatamente due argomenti, ma seguendo l'autorità dei Santi Padri riteniamo conveniente udire, nella medesima esposizione, la riscesa all'inferno e la risurrezione. Primo punto, che cosa voglia dire, genericamente, inferno? Nella prima parte dell'articolo ci viene proposto di credere che dopo la morte di Gesù Cristo la sua anima discese all'inferno e vi rimase finché il corpo restò nel sepolcro. Con queste parole riconosciamo che in quel tempo la medesima persona di Gesù Cristo fu nell'inferno e giacco nel sepolcro, il che non deve sorprendere. Infatti, come spesso abbiamo ripetuto, sebbene l'anima fosse uscita dal corpo, tuttavia la divinità non si separò mai né dall'anima né dal corpo. Chi ha seguito la puntata precedente, faccio un piccolo pit stop, non dovrebbe sorprendersi, dovrebbe essere già familiarizzato con questa cosa, questa cosa che evidentemente si può inquadrare, definire in un certo senso, ma non perfettamente comprendere, perché nessuno di noi ha la doppia natura, quindi nessuno di noi è Dio incarnato. Quindi per noi è un po' difficile pensare che Gesù Cristo sia presente nel sepolcro attraverso il corpo a cui è rimasta unita l'unione ipostatica, i postati, a cui è rimasto ipostaticamente unito, meglio, la persona del verbo, e al tempo stesso attraverso l'anima a cui sempre è unita ipostaticamente la persona del verbo, sia negli inferi. Questo ci faccia comprendere quanto è grande il mistero dell'unione ipostatica. Le operazioni divine sono di per sé trascendenti, perché guardate che chiedetevi se è più difficile credere a questo, cioè in qualche modo raccapezzarsi un po' su questo punto, oppure se considerare il fatto che, per esempio, in questo momento avremo sul pianeta Terra circa un milione di Gesù, quanti saranno i tabernacoli del mondo in cui ci sono le ostie consacrate? Guardate che in ogni tabernacolo del mondo in cui c'è anche solo un'ostia consacrata, secondo la dottrina cattolica infallibile della Chiesa, c'è presente lo stesso Signore Gesù Cristo che sta in cielo, in corpo, sangue, anima e divinità. Presente è presente, c'è la presenza reale. Quindi c'è la persona di Gesù Cristo che, pur rimanendo una, perché è una, il verbo è uno, non è cento milioni, però si moltiplica indefinitamente per essere lo stesso uno presente in tutti i tabernacoli del mondo, in tutte le ostie consacrate. Quindi facciamo attenzione che quando parliamo, ripeto, di fede divina e cattolica, quindi di articoli di fede divina, stiamo parlando di realtà che sono più grandi di noi. Però, come dice il buon San Tommaso nell'inno Dorote Devote, sì, si tratta di cose più grandi di noi, ma il nostro assenso di fede deve essere assoluto e irrevocabile, certo, fermo, più che se dessimo appunto il consenso razionale ad una cosa che è dimostrabile ai sensi e quindi è in qualche modo evidente. Quindi ci siamo già familiarizzati la volta scorsa con questa verità di fede, cioè che l'unione ipostatica non si è interrotta con la morte di Gesù, ma è rimasta perfettamente integra nel corpo di Gesù, che era nel sepolcro, e nell'anima di Gesù, che era appunto, come stiamo adesso vedendo, all'inferno, tra virgolette, quindi l'inferno in senso generico. Prosegue con la lettura. Il parroco getterà molta luce sul senso dell'articolo spiegando subito che cosa si debba intendere qui con il termine inferno. Ammonirà anzitutto che esso non sta a significare il sepolcro, come alcuni non meno empiamente che ignorantemente interpretarono. Abbiamo infatti appreso già dall'articolo precedente che Gesù Cristo, nostro Signore, fu sepolto. Non c'era motivo perché gli apostoli nel redigere la regola della fede ripetessero il medesimo concetto con formula più oscura. Qui il vocabolo in questione vuole significare quelle nascoste sedi in cui stanno le anime di coloro che non hanno conseguito la beatitudine celeste. Ecco qui cos'è l'inferno. Non è l'inferno dei dannati. Sono quelle nascoste sedi in cui stanno le anime di coloro che non hanno conseguito la beatitudine celeste. Non mi dilungo troppo nel commento perché sarà il catechismo stesso assai opportunamente a commentare. Quali sono queste sedi in cui stanno le anime che non hanno conseguito la beatitudine celeste? Punto interrogativo. Vedremo che tra poco lo vedremo ampiamente. Allora la Sacra Scrittura offre molteplici esempi di questo uso. In San Paolo leggiamo Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e nell'inferno. Filippesi 2,10 Negli atti degli apostoli San Pietro assicura che Gesù Cristo nostro Signore risuscitò dopo aver superato i dolori dell'inferno. Atti 2,24 E vediamo finalmente al paragrafo 69 che cosa voglia dire specificamente. Tali sedi cioè le sedi dove stanno le anime di coloro che non hanno conseguito la beatitudine celeste non sono tutte del medesimo genere. Una è quella prigione tenebrosa e orribile nella quale le anime dei dannati giacciono in un fuoco perpetuo e inestinguibile insieme agli spiriti immondi. In questo significato abbiamo i termini equivalenti di Genna Abisso o Inferno propriamente detto. Notare. Altra sede In secondo luogo c'è la sede del fuoco purgante soffrendo nel quale per un determinato tempo le anime dei giusti subiscono l'espiazione onde possano salire alla patria eterna chiusa a ogni ombra di colpa. Anzi sulla verità di questa dottrina che i Santi Concili proclamano contenuta nella scrittura come nella tradizione apostolica il parroco insisterà con rinnovata diligenza poiché viviamo in tempi nei quali la sana dottrina non trova agevole accesso presso gli uomini. Beh qui non posso non fermarmi un attimo stavamo in piena crisi post riforma protestante quindi il concilio di Trento è stata la risposta della chiesa cattolica a al dilagare dell'eresia protestante che chiaramente aveva fatto danni e una delle cose che fermamente negavano i protestanti era appunto la dottrina del purgatorio che dicevano che si erano inventati i cattolici che non c'era nessun fondamento nella scrittura piacerebbe che fosse così il purgatorio è una realtà molto molto importante non soltanto per la sua esistenza in sé ma anche per far capire una cosa che ai protestanti non piaceva e non piace neanche oggi perché oggi i neoprotestanti sono ahimè infiltrati nella chiesa cattolica non sono più i protestanti adesso sono divanti specialmente in certi luoghi classici del protestantesimo una minoranza assoluta addirittura meno di noi però il problema è che siamo diventati noi protestanti perché il purgatorio è l'attestazione del fatto che non si può commettere peccati senza conseguenze chi non si pente va incontro alla dannazione chi si pente va incontro alla purgazione perché anche se la colpa è rimessa ci sono dei debiti contratti con la divina giustizia che vanno pagati ci sono delle macchie contratte con il peccato che vanno purificate ci vanno delle conseguenze ci stanno delle conseguenze che vanno assunte e che ci vuole un certo tipo di pena e un certo quantitativo di tempo per sciogliere la chiesa ha sempre creduto questo ha sempre insegnato questo e insegna questo non esiste soltanto l'inferno e il paradiso esiste anche il purgatorio ed esiste anche un'altra cosa riprendiamo la lettura infine una terza sede è quella in cui le anime dei santi furono ospitate prima della venuta di Gesù Cristo a nostro Signore e se vi dimorarono quietamente immuni da ogni pena alimentate dalla beatifica speranza della redenzione questo luogo adesso non so non se più avanti lo chiama così si si chiama si è sempre chiamato tecnicamente questo il limbo dei santi padri questo è un'altra cosa fondamentale cioè prima che Gesù compisse la redenzione cioè morisse in croce e risorgesse questo mettiamocelo bene in testa in paradiso degli esseri umani non c'era entrato nessuno a parte Adamo ed Eva ma Abramo non stava in paradiso Mosè non stava in paradiso Isaia non stava in paradiso nemmeno San Giovanni Battista stava nel paradiso San Giovanni Battista morto martire con la testa tagliata per rendere testimonianza alla verità non stava in paradiso San Giuseppe non stava in paradiso non stava manco San Giuseppe ma manco San Giuseppe il più santo dei santi non ci sta anche questa cosa è una realtà importantissima da considerare da meditare perché ci fa capire la gravità e la conseguenza del peccato attuale e del peccato originale San Giuseppe ma che peccati può aver fatto San Giuseppe peccati attuali forse nessuno non aspetta certamente a me il compito di dire una cosa di questo genere questo saranno le autorità della della chiesa ma io sinceramente pensando a San Giuseppe solo l'idea del peccato mi ripugna anche piccolo ammissibile qualche imperfezione involontaria forse sì ma se anche supponiamo San Giuseppe fosse stato perfettissimo è nato sicuramente San Giuseppe non era come la Madonna immacolato 100% ma con San Giovanni Battista tant'è vero che secondo una lettura comune quando la Vergine Santissima visita Santa Elisabetta e il testo del Vangelo di Luca dice il bambino che sussultò nel grembo sono tantissimi a interpretare questo passo in questo modo che cos'è San Giovanni Battista sussulta perché alla visita di Gesù viene liberato dal peccato originale nel grembo di sua madre ci aveva però sei mesi dal concepimento peraltro questo particolare io continuo a insistere su queste cose perché siamo in tempi di morta fede ed empietà trionfante il grande Bartolo Longo è stato profeta oggi è proprio morta fede ed empietà trionfante cioè il precursore Gesù Cristo ha l'attenzione di ispirare alla Madonna di andare a visitare Elisabetta non tanto e non principalmente certamente anche per questo per la carità e l'aiuto anche umano da rendere ad un'anziana parente che ad età molto avanzata era incinta questo sicuramente la Madonna l'ha fatto e l'ha fatto benissimo ma non era questo lo scopo principale lo scopo principale era che doveva andare attraverso la presenza di Gesù operante e vivo nel grembo di Maria ad essere tolta la macchia del peccato originale che ovviamente in questi tempi di morta fede ed empietà trionfante i figli dibattezzati se la tengono fino a non si sa quando cioè il nostro Signore fa in modo che San Giovanni Battista sia purificato da quella orribile macchia prima che nasca perché per l'altissima missione che deve compiere per cui schiavo di Satana perché questo è ci si deve rimanere il meno tempo possibile San Giuseppe forse questa è io facciamo un po' di spot pubblicitario ho fatto un po' di catechesi negli anni passati per una web radio che si chiamava Radio San Giuseppe appunto dedicati a San Giuseppe c'erano molte molti testi che ho seguito belli cioè che mi hanno anche che hanno edificato anche me che mi hanno dato delle informazioni che io potevo soltanto in qualche modo immaginare ecco ma lì le vedi però tenute da da santi autori quindi che siano state tenute da santi autori appaiono insomma tendibili forse sapete che quando c'era la disputa della definizione del dogma dell'immacolata concezione i non immacolatisti dicevano ma no e questo purtroppo è una delle cose in cui non aveva visto pochissime non aveva visto bene lo stesso grandissimo San Tommaso d'Aquino perché San Tommaso d'Aquino aveva una concezione della redenzione esclusivamente appunto scusate la tautologia redentiva cioè se una persona non è caduta non è salvata da Gesù Cristo ma siccome Gesù è il salvatore universale è impossibile che questo accada per cui mica San Tommaso pensava che era la Madonna dice ma la Madonna è stata appena appena sfiorata dal contagio della macchia e poi immediatamente la grazia di Dio in vista dei meriti di Cristo l'ha subito liberata però nella testa sua non era ancora solto il concetto di redenzione preservativa che venne nella testa di un altro genio non al suo livello però un altro discreto genio che era di un scoto francescano sapete che nel corso del medioevo e del rinascimento e anche oltre si sono fronteggiate le due scuole teologiche francescana e domenicana a cui poi si sono aggiunti anche i gesuiti ecco quindi aveva visto meglio di un scoto insomma allora forse qualcuno diceva questa teoria che San Tommaso ha applicato alla Vergine Santissima per salvaguardare il principio della redenzione universale forse questo potrebbe essere raccontato a San Giuseppe perché se San Giovanni Battista che era il precursore è stato questo è il ragionamento che fanno diversi autori spirituali se San Giovanni Battista che era il precursore è stato liberato dal peccato di generale nel grembo di sua madre forse il padre putativo di Gesù lo sposo castissimo purissimo di Maria perché non essere liberato immediatamente dal peccato originale in modo tale che avesse una confermazione in grazia quindi una vita perfettissima tale da poter appunto meritare di essere lo sposo di Maria e il nutrizio di Gesù se uno si regge la vita di San Giuseppe per esempio di Sor Cecilia Bai veramente si vede come quest'uomo stava su un altro pianeta stava cioè è un grado di santità assolutamente fuori del comune assolutamente fuori del comune eppure stava nel limbo anche lui ecco tutto sto discorso stava nel limbo anche lui e questo ci faccia rendere conto la tragedia che è il peccato originale e l'importanza del battesimo e l'importanza di annunciare il Vangelo e chiamare alla fede tutte le nazioni come ha detto Gesù senza andare a fare discorsi eh vabbè ma quelli che hanno la religione loro va bene lo stesso no non va bene lo stesso non va bene lo stesso non vuol dire che si devono fare le guerre di religione o andare a violentare la gente per farli battezzare per forza nessuno dice questo Gesù non ha detto andateli a battezzare per forza o a violentarli però ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo lo ha detto perché campare con il peccato originale addosso non soltanto con le conseguenze del peccato originale ma con il peccato originale addosso che attenzione inerisce a ciascuno come colpa propria pur essendo un peccato trasmesso ma non commesso non come colpa personale perché altrimenti si andrebbe in purgatorio o addirittura all'inferno ma come macchia che ce la portiamo dietro nasciamo così siamo concepiti così meglio ancora e quindi è disceso agli inferi in questo senso in questo terza accezione inferno è ciò che nella saga scrittura si chiama inferi appunto in latino oppure sheol in ebraico in greco ade la dimora dei morti vado avanti con la lettura reale discesa dell'anima di gesù cristo nell'inferno gesù cristo scendendo nell'inferno liberò appunto le anime di questi giusti aspettanti il salvatore nel seno di abbramo ne dobbiamo credere che vi sia disceso in modo da farvi perverire soltanto la sua virtù e la sua potenza ma non la sua anima dobbiamo invece ritenere con fermezza che la sua anima discesa realmente e con la sua presenza nell'inferno abbiamo in proposito l'esplice testimonianza di Davide non lascerai l'anima mia bellissimo questa applicazione che fa il catechismo romano anche di questo passo non abbandonerai la mia vita nel sepolcro nell'inferno negli inferi meglio la traduzione della volgata non lascerai che il tuo santo veda la corruzione la discesa di gesù cristo all'inferno nulla detrasse all'infinita sua potenza né gettò alcuna ombra offuscatrice sullo splendore della sua santità al contrario fu così solennemente confermato quanto era stato dichiarato circa la circa la sua santità e la sua figliolanza da Dio già manifestata da tanti miracoli ce ne persuaderemo senza indugio se riflettiamo alle ben diverse ragioni per le quali scesero in quella sede Gesù Cristo e gli altri cioè capiamo il senso di quello che sta dicendo non è che l'anima di Gesù Cristo è discesa negli inferi come gli altri perché non bestemmiamo proprio in maniera grossolana no? e infatti cosa dice tutti vi erano penetrati come prigionieri come prigionieri non potevano non andarci lì imprigionati chi percepi dall'inferno è imprigionato da Satana a cui ci si consegna con il peccato mortale chi pecca mortalmente deve sapere che si consegna nelle braccia di Satana e che Satana se quello ti acchiappa non ti molla la conversione del peccatore e la grazia di poter ricorrere alla confessione sacramentale è appunto una grazia straordinaria chiaro? e nel limbo dei Santi Padri i prigionieri sì prigionieri prigionieri del peccato originale col peccato originale Dio non si vede Gesù non parla a vanvera anche quelli che hanno mandato troppo frettolosamente hanno preteso di mandare troppo frettolosamente nonostante diverse attestazioni anche di natura magisteriale contraria il limbo con la scusa che non è un dogma di fede definito cosa che è vera ma questo non vuol dire che non sia che non faccia parte della dottrina comune della chiesa e per cui respingere questa dottrina è dottrina temeraria lo era ieri lo è oggi lo sarà sempre nonostante il fatto che insigni i personaggi non aggiungo altro abbiano manifestato una propensione per questa posizione prigionieri del peccato originale Gesù ripeto non parla a vanvera manca la citazione e non ha detto senza motivo chi non rinasce dall'alto non può entrare nel regno di Dio non può vedere il regno di Dio e ha specificato questa rinascita dall'alto significa rinascere da acqua e da spirito santo cioè essere battezzati il sacramento del battesimo è primariamente rivolto alla rimozione del peccato originale ecco perché si battezzano i bambini cioè i peccati attuali vengono rimessi secondariamente quando viene battezzato un adulto se no perché verrebbero battezzati i bambini professo un solo battesimo per il perdono dei peccati diciamo nel credo scusate un bambino che peccati ha quello originale non lo ha fatto lui ma lo eredita come proprio non lo ha fatto ma è come come se l'avesse fatto lui lo spiega bene San Paolo in Adamo tutti abbiamo peccato anche se il peccato lo ha commesso personalmente e di questo non è responsabile davanti a Dio il nostro progenitore Adamo allora rileggo tutti vi erano prigionieri egli invece libero e vincitore fra morti vi entrò per debellare i demoni dai quali essi erano tenuti i prigionieri a causa della colpa originale vedete la sana dottrina cattolica che cos'è ripeto egli invece libero e vincitore fra i morti vi entrò per debellare i demoni che esistono dai quali essi cioè gli abitanti del limbo dei santi padri erano tenuti i prigionieri a causa della colpa originale tenuti prigionieri cioè come diceva padre Pio schiavi di satano un prigioniero sta in carcere non è che se ne può andare questo se lo dobbiamo mettere bene in testa se ti mettono carcerato tu non esci dal carcere a meno che non sei bravo ad evadere ma col diavolo non c'è possibilità di evasione non c'è lì stai e lì resti se qualcuno non ti libera sapete che significa il redentore nessuno può dire che non ha bisogno di Cristo nessuno da un punto di vista oggettivo può non crederci da un punto di vista soggettivo ma non può dirlo da un punto di vista oggettivo perché non è vero inoltre di tutti gli altri che erano discesi nell'inferno una parte era stretta dalle più opprimenti pene un'altra parte pur libera da dolori sensibili era amareggiata dalla privazione della visione di Dio e dall'aspettativa ansiosa della sperata abbiatitudine è chiaro che qui fa riferimento a quelli che stavano nel purgatorio perché può darsi anche che c'erano delle anime giuste che però avevano commesso dei peccati più o meno gravi attuali e di cui dovevano essere purificate e quindi stavano soffrendo dalle più opprimenti pene questo per ricordarci che il purgatorio non è una sala d'aspetto oggi al mercoledì delle ceneri guardate il nostro signore si tratta sempre come persone libere noi siamo come dire sacrosantamente liberi non ti va di santificare la guaresima non ti va di fare benitenza ma non la fare ma tanto la farai cioè figlioli i miei cari ci piaccia o non ci piaccia non si entra in paradiso se non si passa per la croce per cui o la penitenza la fai qui quella che il signore ti impone di fare certo ce le impone a tutti alcune ce le abbiamo in comune no? ce le abbiamo tutti quanti chi più chi meno ma altre ce le dobbiamo imporre noi ecco perché la chiesa ci fa vivere questo tempo te le devi imporre da solo arrivaci perché se non te le imponi tu da solo poi te le imponi al nostro signore in purgatorio e quelle sono più dolorose non meritorie e più lunghe generalmente qui invece soffrirai di meno con meriti perché le pene che noi soffriamo qui non sono soltanto a sconto dei peccati ma crescono anche la grazia qui e la gloria dopo quindi che cosa conviene e più brevi però c'erano anche gli altri che privi di dolori sensibili cioè le anime del limbo erano però amareggiata erano amareggiati dalla privazione della visione di Dio che è il motivo per cui siamo stati creati Cristo Signore non vi dice se non per soffrire bensì per liberare i giusti dalla molestia dell'ingrata prigione e conferir loro il frutto della propria passione nella sua discesa dunque non si riscontra nessuna diminuzione dell'infinita sua dignità e potenza vedete come questo è un articolo bellissimo è importantissimo paragrafo 71 Cristo Gesù discendendo nel limbo liberò le anime dei santi poi ci dovrà insegnare come Gesù Cristo nostro Signore è disceso nel limbo per condurre con sé in cielo i santi padri e tutti gli uomini pi liberandoli dal carcere dopo aver strappato al demonio la sua preda il che fu da lui compiuto in maniera ammirabile e con gloria grande capito cosa ha fatto ricordate cosa il Vangelo dove Gesù dice guardate che nessuno può entrare cioè se uno capi se un uomo forte si prende una preda quello sta al sicuro perché la preda non gli scappa a meno che non arrivi uno più forte di lui gli toglie la preda e gli saccheggia il bottino di chi sta parlando Gesù l'uomo forte il break ovviamente tra virgolette è il diavolo e guardate che il diavolo se ti prende non ti molla e ripeto perché ripetita io noi non abbiamo nessuna possibilità di liberarci capito questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa se uno legge un po' di libri degli esperti sui diavoli o ascolta le loro testimonianze le testimonianze di persone che hanno sofferto col diavolo tu fa che poco poco cadi vittima di qualche male di origine malefica vai vai di qualche rito di qualche fattura di qualche cosa vai vai per mandarlo via da lì leggete i libri degli esorcisti ci vuole la mano di Dio ci vuole mesi a volte anni di esorcismi 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 preghiere 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 sacramentali 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 questo sembra che non se ne va mai e quelle povere vittime che devono stare a subire con la vita distrutta poi tra l'altro che vogliamo fa? è importante per chi può avere una conoscenza magari anche solo generica di questa realtà perché mutatis mutandis dicevano i romani la stessa cosa nell'azione ordinaria del demonio è la stessa cioè quello che il demonio fa nelle vite in generale e nei corpi in particolare delle vittime di mali malefici lo fa con tutti per quanto riguarda l'anima con tutti è un predatore è forte tra l'altro cioè a noi gli esseri umani il diavolo ci fa non mille pezzi a centomila pezzi se non ci aggrappiamo addomino e Dio al nostro Signore Gesù Cristo noi siamo finiti siamo spacciati chiaro? perché non è per tutti molto molto chiaro io ci ho fatto l'omelia oggi durante la messa delle ceneri io mi sono stufato ho quasi vent'anni di sacerdozio di andare a sentire cretinate va bene che forse saranno dette da gente che non sa quello che dice ah padre non si preoccupi che non mi vedi in chiesa ma io tanto credo ogni tanto faccio anche qualche preghiera ogni tanto vengo pure ad accendere una candela e lascio pure l'ombolo oppure classiche scene da paese non sono l'unica a vederle gente che non vedi mai in chiesa dopodiché arriva la processione X o Y c'è stessa cosa nei paesi quel giorno alla fine della messa ovviamente perché non è che si entrano alla messa no finita la messa c'è la processione degli uomini che entrano in chiesa mai visti ovviamente in chiesa che non si vedono mai e che si incollano sulle spalle la statua io devo ancora capire questa dinamica se qualcuno la conosce bene mi faccio una mail oppure mi chiami cioè perché dico dunque andare in chiesa ordinariamente è una cosa disdicevole di cui ti prendono in giro e ti vergognano quindi non ci può mettere piede però se esce il santo che te lo incolli sulle spalle visto da tutti in giro per il paese è una cosa come dire che fa in quindi è una cosa onorevole non è più una cosa disdicevole io ancora la devo capire questa storia cioè la constato la vedo ma possibilità di capirla zero vabbè che c'è chi dice che il male è irragionevole irrazionale quindi bisogna rinunciarci però è un grande mistero quindi la preda trappare al demone la preda noi siamo stati predati e quindi siamo imprigionati dobbiamo essere liberati dal carcere redenzione apoliutrosis in greco significa pagare il prezzo del riscatto capite che significa il prezzo del riscatto c'è un sequestro di persona devi pagare se no la persona non verrà liberata è chiaro che il nostro signore non è che ha pagato al diavolo il prezzo non esiste ma l'ha pagata al padre perché 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 al padre perché fatto il peccato originale o fatto il peccato attuale è più che giusto che tu sia schiavo di satana giustissimo e Dio non deroga alla giustizia te l'ha detto lui di fare una cosa del genere assolutamente no ai nostri progenitori gli avevano detto fate tutto meno che questo hanno fatto quello guardate che se lo fate morirete no 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 lo dico io non morirete affatto anzi questa è la cosa più bella che esiste Dio vi ha tolto la fonte della autentica felicità della vostra esistenza e anche qui altro consiglio degli acquisti perché non fatti veramente tanti di circo di catechesi chi volesse approfondire vada ad ascoltare il circo di catechesi il peccato originale l'origine di ogni male anche perché lì si farà un'idea di che cosa potrebbe essere stato il peccato originale la cosa più bella di tutti quella che se non c'è la vita è uno schifo questo era quello che disse il diavolo e questo è quello che pensano quasi tutti a oggi vogliamo uscire di metafora la gente pensa che non si possa vivere senza il piacere sessuale sono completamente ossessionati io posso raccontare un episodio perché non non mi vergogno una volta in una città X d'Italia io ero come sempre vestito in giro stavo passeggiando dove stavo passeggiando stavo andando da qualche parte adesso non mi ricordo dove non mi fa passeggiare vabbè è cosa non molto frequente ogni tanto il signore se lo concede però vabbè passa vicino un giovanotto e mi fa stavo in mezzo a una comitiva dice padre ma posso farle una domanda a me era serio ma lei nella vita scusi non non ha una donna non ha nessuno dico io lo guardo dico l'ho fulminato con lo sguardo dico che vuoi tu ma mi scusi ma lei come fa ma lei come fa allora io non è che mi sono offeso ma una domanda del genere è sintomatica no lei come fa vuol dire che non si può vivere senza e infatti molti pensano che tutti i preti avranno qualche doppia vita qualche cosa perché come fanno figurate non è vero non tutti forse qualcuno spero di no ma non tutti io no è la gioia più grande che si possa vivere per quanto mi riguarda essere sollevati da queste cose un pochino basse che per carità quando si vive nel matrimonio con la benedizione di Dio è l'unico modo anche per far nascere altri figli di Dio quindi per carità ecco va bene comunque torniamo agli inferi quindi scende nel limbo per liberarli dal carcere dopo aver strappato dal demonio la sua preda il che fu da lui compiuto in maniera ammirabile e con gloria grande il suo aspetto sfolgorò su quei prigionieri una luce chiarissima e riempì le loro anime di letizia immense di Gaudio anzi elargia esse ancora la più desiderabile delle beatitudini che consiste nella visione di Dio così fu compiuta la promessa fatta al buon ladrone oggi sarai con me in paradiso questa liberazione dei buoni era stata molto tempo innanzi predetta da Osea con queste parole bellissima o morte io sarò la tua morte o inferno io sarò la tua distruzione noi siamo discepoli del vincitore con la V maiuscola per questo che siamo sempre sereni tranquilli in pace abbandonati l'importante è rimanere strettamente uniti profondamente uniti e seguire le orme del vincitore con la V maiuscola noi siamo vincenti noi siamo dalla partita del vincente e dal profeta Zaccaria per te a causa del sangue del tuo patto io ritirerò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua nonché dal passo dell'apostolo egli ha spogliato i principati e le potestà offrendoli a spettacolo e trionfando di loro i diavoli che fanno tanto i gradassi fanno i gradassi con noi che siamo proprio guardate nessuno si offenda perché i diavoli così chiamano noi esseri umani stupidi c'è perfettamente ragione perché vedete è stupidità non curare la propria formazione di fede ed è stupidità non ragionare rettamente sulla base dei dati di fede una persona che fa un peccato mortale prima che esso una persona della volontà perversa è uno stupido e lo dicono i diavoli io ho letto degli esorcismi sono pubblicati si trovano online dice che cretini che siete voi peccando abbandonate colui che vi ama infinitamente colui che ha versato fino all'ultima scuccia di sangue per voi colui che vi promette il paradiso colui che ha solo bene di ogni genere da allargirvi e venite nelle mani mie che vi odio che vi torturerò per tutta l'eternità che vi allestisca una vita di inferno qui e poi prosegue di là bravi continuate così complimenti idioti così sì questo pensano di noi diavoli e io penso che tutti i torti non ce l'hanno per meglio intendere il valore di questo mistero dobbiamo sovente ricordare che per beneficio della passione di Cristo hanno ricevuto la salvezza non solo gli uomini nati dopo l'avvento del Signore ma anche quelli che lo avevano preceduto da Adamo in poi e che saranno per nascere fino alla fine del mondo quindi la salvezza operata dal Signore retroattiva quindi raggiunge Adamo e chiaramente fino all'ultimo uomo che nascerà perciò attenzione a quello che ho detto prima avanti che egli morisse e risolvesse da morte le porte dei cieli non si aprirono mai per alcuno non ci sono eccezioni ma le anime dei buoni uscite di questa vita erano portate nel seno di Abramo o venivano purificate nel fuoco del purgatorio come avviene anche ora a quelli che hanno qualcosa da lavare o da scontare nessuna eccezione vi è infine un'altra causa della discesa di Cristo Signore negli inferi ed è la manifestazione della sua forza e potenza anche in quel luogo come era stata nel cielo e sulla terra affinché si avverasse che al suo nome il ginocchio si piega in cielo in terra e negli inferi sotto terra chi non ammirerà a questo punto l'immensa benignità di Dio verso il genere umano chi non sarà preso dallo stupore considerando che egli non soltanto ha voluto subire per noi una servissima morte ma è ancora voluto scendere nei penetrali della terra per toglierne le anime a lui tanto care e portarle secco alla beatitudine ecco con queste parole finisce l'articolo sulla discesa agli inferi io anche concludo con qualche ultima considerazione nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo sulla terra e sotto terra non è chiaro l'articolo sicuramente nostro signore è scesa agli inferi d'accordo agli inferi intesi come purgatorio e limbo per liberare le anime ma si lascia chiaramente intendere dal momento che quando parla dell'inferno lo parla nei triplici nel triplice nella triplice azzezione quindi compresa la prima che ora della prigione tenebrosa è orribile nella quale i dannati soffrono pene inestinguibili ma voi lo sapete che sempre a testimonianza di santi di mistici che non hanno visto o di esperti in materia quando il nostro signore si affaccia nell'inferno i demoni sono costretti a inginocchiarsi e poi chiaramente prendono in giro noi mortali diciamo noi siamo meglio di voi voi non vi inginocchiate davanti al vostro Dio dite che è il vostro Dio e non vi inginocchiate noi si anche se lo odiamo e non lo riconosciamo come nostro Dio perché ci costringe ora guai a chi non si inginocchia dinanzi al signore Gesù non soltanto durante la liturgia anche durante la liturgia guai 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 e guai a chi passa davanti a un tabernacolo senza fare la genuflessione guai guai e guai a chi osa stare in piedi durante la consagrazione mi verrebbe voglia di dire guai anche a chi osa prendere Gesù senza stare in ginocchio che è sicuramente la forma migliore di prenderla e Dio solo sa quanto mi dispiace che le autorità della Chiesa hanno ritenuto prima di concedere di prenderla in piedi adesso addirittura peggio ma questa è una cosa che io sono certissimo che finirà perché non è gradita a Dio 100% e questo ci faccia anche riflettere per favore già l'ho parlato credo mi sa ieri sera a proposito della carriera su Giuda sullo Spirito Santo quindi oppure sulla la Chiesa dice sempre cauti sempre sempre calmi perché le disposizioni disciplinari come per esempio prendi la comunione in piedi come per esempio ti concedo di prenderla in mano non vengono dallo Spirito Santo non vengono dallo Spirito Santo lo dico tranquillamente posso sentirlo qualunque Vescovo Papa e non può assolutamente dirmi nulla per una cosa di questo genere per questo ve lo dico ma lo dico perché è vero non vengono dallo Spirito Santo vengono dalle menti di esseri umani che potrebbero non aver visto bene non aver inteso bene potrebbero anche aver sbagliato in buona fede non è che tutto quello che fanno le autorità ecclesiastiche è perfetto ed infallibile e impeccabile dove sta scritto questo qui infallibile soltanto il Papa quando parla ex cantera è infallibile soltanto il concilio ecumenico quando fa dei dogmi o definisce delle verità di fede con annesso anatemasit lì non c'è problema basta fine fine della festa finita la festa tutto il resto si può discutere ordinariamente al Magistero Ordinario va dato l'assenso della volontà dell'intelletto religioso secchio al Magistero Ordinario le norme della Chiesa di natura disciplinare ordinariamente vanno osservate ma non vuol dire che siano le cose più perfette in ogni epoca storica nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo sulla terra e sottoterra e Gesù va perché sì i diavoli hanno fatto i diavoli ma chi comanda è lui i diavoli hanno fatto i diavoli e i dannati faranno i dannati perché nostro Signore che è un gran Signore ha creato i puri spiriti e gli esseri umani che sono anime incarnate a sua immagine quindi sono libere e lui si adegua allo statuto ontologico di queste creature perché altrimenti rinnegherebbe se stesso ma chi si azzarda a ribellarsi a lui ne pagherà le conseguenze e ogni tanto avrà anche l'umiliazione di doversi piegare per forza anche se lo odia con i dannati è possibile che Dio violi la libertà allo scopo di umiliarti perché se lo meritano con i dannati e con i demoni con noi sulla terra tale tranquillo che non lo farà mai per cui chi non si vuole inginocchiare faccia pure speriamo che un giorno non si debba trovare a doverlo fare per forza in compagnia dei dannati perché davanti a Gesù è un atto della nostra libera volontà ma ci si deve inginocchiare perché lui si merita non che ci inginocchiamo una volta ma che stiamo tutta quanta la vita prostrati davanti a lui fino a quando non ci sanguiano i ginocchi non ci spezza la schiena per quello che ha fatto per noi e sarebbe ancora poco bene amici che Dio ci benedica a tutti e che la Santa Vergine ci protegga laudentur Iesus et Maria grazie a tutti